Le strade a volte appaiono infinite, eppure tutte ci portano da qualche parte. Ci sono strade che ci conducono verso i nostri sogni. E non è forse vero che il traguardo sta in un lavoro che piace, e in un amore felice. Abbiamo attraversato vie che non avremmo mai pensato di esplorare, ma insieme possiamo inciampare nella meraviglia. È nel cogliere i bisogni dell'altro e porgere la mano per aiutare, che possiamo crescere, in tutti i sensi. Perché trovare soluzioni per voi aiuta a migliorarci, ad aprire porte che da soli non avremmo mai varcato. Un giorno le macchine troveranno la soluzione a tutti i nostri problemi, ma mai nessuna di esse potrà porne uno. A volte non c'è soddisfazione più grande che trovare una soluzione. Dal 1948 l'evoluzione è la nostra missione, e il futuro è il nostro traguardo. CRIP 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 CRIP